si è finito di scolto 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 come è nato? è venuto in macchina è un marchetto in attimo e arriva cazzo guarda è giocato di mio figlio? si pronto dimmi si eh non me lo ricordo sono in questo obiettivo stanno giocando contro l'Oxenia e non posso controllare quindi ti lo dico dopo non mi ricordo non faccio ricordarmi tutto mi sembra che forse ci sta che se si qualificano oggi magari si però non mi ricordo ragazzi non mi ricordo beh te lo dico dopo con la fine partita che controllo ciao ciao ma neanche qua c'è il suo è il presidente non potevo ma è e vivo con Segna si chiama la squadra? Segna Como provincia di Como mi sembra si di sopra non è passato ma c'è una pallone si fa ma è bello grosso dai 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 vado Gira le scarpe Dai camminizzali Da là Bravo 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 Cuglina E' un po' con le pigiama, non ci posso cambiare No, guarda che noi stiamo uscendo tutti per venire da voi No, guarda che noi stiamo uscendo No, guarda che noi stiamo uscendo Bella No, guarda che noi stiamo uscendo Grazie 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 dai salire a 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 salire